e tornata la Belen di un tempo, sbarazzina, con i cappelli ondulati e la voglia di sorridere. Poca palestra, magra, e il desiderio di mostrarsi così com'è. Fragilità comprese. Il periodo così così è ormai alle spalle, la Rodriguez è felice con il nuovo amore Andrea Iannone, è pronta per una vacanza a Ibiza e intanto festeggia i primi due anni del Salone di Bellezza a Milano. In un'intervista esclusiva parla di amicizia, ex, progetti e amore. Belen spiega che non è incinta. Michelle Unseeker le aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta, e visto che in una sua foto comparivano, la gente ha pensato subito allo scoop. Belen dice anche io però non ho problemi di fertilità. Con Santiago sono rimasta incinta al primo mese. Inoltre Belen smentisce anche il fatto che Iannone le abbia fatto una proposta di matrimonio, dice anche non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento.